Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di stacchi, lo stacco, dove inserirlo, perché inserirlo, è così fondamentale, devo inserirlo? Ci sono tante domande che arrivano sempre su questi fantomatici stacchi, per cui oggi voglio fare un video dedicato proprio a questo esercizio. Allora, ho fatto dei video sui tre big, panca, stacco e squat, se sono fondamentali, se veramente vanno inseriti, e la risposta è no. In realtà nessun esercizio è veramente fondamentale in termini assoluti per creare ipertrofia. Se vogliamo parlare di ottimizzazione, allora sicuramente gli stacchi, intesi come famiglia di esercizi, quindi diversi schemi motori, sono fondamentali. Nel senso che se vogliamo ottimizzare quelli che sono i nostri risultati, salvo genetiche specifiche, molto avanti sulla catena cinetica posteriore, sono esercizi che sicuramente va inserito in una delle sue sfumature. Però generalmente non è fondamentale, possiamo sicuramente trovare delle ottime alternative. Ora è un esercizio molto molto particolare, perché è un esercizio altamente sinergico, quindi è un esercizio che coinvolge in generale tutta la catena cinetica posteriore, nella sua variante regolamentare, nel PL, quindi lo stacco regular, in realtà è una variante di pressa, un esercizio di spinta, non di tirata, quindi coinvolge anche in estensione del ginocchio e quadricipiti, per cui è un esercizio veramente veramente completo. E è l'esercizio in cui tradizionalmente si carica di più, o bene o male siamo tendenzialmente portati a caricare di più, per cui è quello che ha un impatto neurale più importante. Questo è il motivo per cui nel bodybuilding il suo inserimento è molto molto spinoso. Però cerchiamo di capire come poterlo inserire. Allora, innanzitutto, dal mio punto di vista, salvo casi molto particolari, soggetti predisposti, soggetti molto forti e in grado di sopportare un buon carico neurale, lo stacco regular va tendenzialmente eliminato. Non ha un vero ruolo nel bodybuilding, non è realmente sfruttabile, non tanto perché non ci dà uno stimolo interessante, quanto piuttosto perché penalizza troppo il resto, quindi è difficile proprio da inserire all'interno di uno splittaggio e dovremmo sacrificare veramente tante altre cose, quindi il gioco non vale la candela. Parliamo di quelle che sono le varianti più importanti e più utilizzate, di cui fondamentalmente vedremo la più interessante è una. Allora, le tre varianti che possiamo utilizzare sono, la prima variante sono i rack pulls. I rack pulls sono sostanzialmente degli stacchi in cui si parte da un rialzo, quindi vengono chiamati pin pulls, rack pulls, ossia metto un rialzo che dovrebbe essere tendenzialmente a metà tibia, quindi il bilanciere proprio dovrebbe partire da metà tibia, non il rialzo ma il bilanciere dovrebbe partire da metà tibia, quindi tolgo quel piccolo tratto di rom in basso. Questo tendenzialmente per evitare quello che è un forte sticking point che abbiamo nell'alzata e quindi vado a performare lo stacco tradizionalmente ed elimino pure quella che è la componente di estensione del ginocchio. Quindi vado a lavorare a gambe semitese, quindi l'intervento che ho è quello della catena posteriore. I quadricipiti intervengono minimamente e vado a fare l'ultimo tratto di rom, ma in realtà si tratta per l'appunto di eliminare un tratto abbastanza basso. Ecco, i rack pulls hanno come caratteristica quella di essere eseguiti in stop reps o dead stop. Con la differenza nelle stop reps io tocco senza scaricare del tutto tensione in basso e risalgo, nei dead stop io elimino la fase eccentrica, butto il bilanciere, mi resetto, quindi perdo effettivamente tensione e poi rifaccio la mia esecuzione, la mia alzata. Quindi è lo stacco tradizionale, viene fatto in dead stop. Le stop reps sono la variante un po' più controllata, in cui comunque tocco in basso ma non perdo del tutto tensione. Ora, altra variante sono gli RDL, quindi gli stacchi romeni. Sono sostanzialmente dei rack pulls senza però il rialzo, nel senso che il ROM è sempre incompleto, mi fermo col bilanciere a metà tibia, però non ho un punto d'appoggio, quindi non faccio dead stop, non faccio stop reps e semplicemente risalgo. Quindi sono sicuramente da un certo punto di vista un po' più impegnative. Il discorso è sempre quello di eliminare l'ultimo tratto di ROM, quindi in realtà si prestano molto bene a soggetti che per esempio hanno gli arti abbastanza corti, non hanno quella mobilità per scendere del tutto, quindi sono propedeutici per andare a passare a poi delle varianti con un ROM un po' più completo. E anche in questo caso tolgo il tratto, lo sticking point più importante che è tipicamente in basso. E infine abbiamo gli Steve Leg Deadlift, che sono la variante più completa, in cui parto dal basso, addirittura se ho una buona mobilità degli arti tendenzialmente lunghi, posso farli, quindi riesco ad avere un active ROM maggiore in basso, posso farli in deficit, quindi mettendomi a me un rialzo sotto i piedi, per allungare ancora di più il ROM, in cui arrivo fino in basso, è una variante a stack a gambe semitesi, quindi non vado in estensione del ginocchio, ma intervengo esclusivamente con la catena cinetica posteriore, e anche in questo caso posso farli in dead stop o stop reps, quindi la variante prevede per l'appunto di toccare in basso. Quindi questi sono gli esercizi. Tipicamente quella più sensata da utilizzare, a cui se abbiamo una buona mobilità, lavoriamo bene, eccetera, sono gli stacchi a gambe semitesi, quindi SLDL, Steve Leg Deadlift, e come vedremo l'unica problematica è questo resistance profile, che non è ottimale perché quando sto in basso ho tanta tanta tensione, tipicamente, che va a ridursi in maniera esponenziale quando salgo in alto, ma ci sono dei consigli per intervenire. Quindi queste sono le nostre varianti, la nostra famiglia. Ora la domanda è dove vado a inserirlo? Lo devo inserire in una sessione di back o una sessione di gambe? La risposta è che entrambe le soluzioni hanno perfettamente senso. Dipende molto da quello che fate in generale e dipende molto da come le eseguite. Che cosa andate a ricercare nel dettaglio? Perché da una parte ho inevitabilmente un grande coinvolgimento degli erettori spinali e se stabilizzo bene la schiena ho un buon coinvolgimento anche del gran dorsale, di tutta la schiena in toto, perché la sento compatta e va a stabilizzare l'isometria e il movimento, ma dall'altra inevitabilmente avrò un lavoro di femorale e gluteo in estensione dell'anca. Quindi è un esercizio completo. Possiamo inserirlo in entrambi i casi. Per l'appunto dipende tutto da come lo andiamo a consensualizzare, ma anche come lo andiamo ad eseguire. Quindi cerchiamo di capire innanzitutto da un punto di vista di esecuzione. Ora, nel caso in cui io voglia lavorare su un coinvolgimento del back, tendenzialmente devo, posso almeno innanzitutto, lavorare con un minor ipinge. Il pinge è il movimento sostanzialmente del gluteo che va indietro e avanti. Mettiamolo così molto semplice, quindi in una visione laterale, logicamente quando fate uno stacco il gluteo tende ad andare indietro, quando scendete e man mano che salite tende ad andare avanti. Ora, più accentuate questo movimento, più avrete un resistance profile tendenzialmente un po' più piatto, più ci sarà un coinvolgimento anche di femorale e glutei che riusciranno a stabilizzare bene il movimento in basso. Quindi invece di pensare di portare il bilanciere in alto e in basso, penso vado indietro, vado in avanti. Ok, quindi enfatizzo un po' di più leap hinge. Ora, nel caso in cui voglio coinvolgere di più il back in stabilizzazione, quindi voglio concentrarmi di più sul back in generale, posso come possibilità ridurre un filo, quindi non accentuare troppo leap hinge, e cercare un po' più un'alzata di potenza, un'alzata in cui ricerco un po' di più il carico. E anche qua è interessante l'utilizzo di desktop, quindi tolgo la fase eccentrica, mi concentro soltanto sulla fase concentrica. Perché questo? Perché tendenzialmente gli erettori spinali, i lombari e il back in generale, ma anche il gluteo logicamente, sono gli istretti che più facilmente entrano in gioco, perché abbiamo più facilità a connetterci con questi istretti, quindi quando inizio a caricare tanto, per un discorso anche di stabilizzazione, intervengono molto di più in gioco. Quindi se voglio sfruttare questa alzata, nel giorno di back, posso inserirlo per esempio come primo compound dopo aver attivato il back, quindi magari sto facendo, ho fatto prima un cable pullover, quindi un pullover al cavo alto, oppure ho fatto un supinated pulldown unilaterale, un pull unilaterale, quindi ho il back comunque pieno di sangue carico in pump, lo stabilizzo bene e vado a fare questo tipo di alzata. Posso anche scegliere di utilizzare dei rack pulls, o degli stacchi romeni, perché tolgo quella componente in basso, in cui tipicamente i femorali si strecciano di più, il gluteo si allunga più di più, e riesco ad attivare più questi distretti. Quindi di nuovo, tendenzialmente per questioni proprio di sensazione, di capacità di agganciarsi al muscolo, quando carico tanto il back tende a prevalere, quindi posso sfruttare l'alzata per caricare di più, quindi per ricercare un po' di più il carico, e posso lavorare in desktop. Viceversa, quando voglio lavorare più su femorali e glutei, come detto il lavoro di pinja è fondamentale, perché quando scendo avrò un, per l'appunto un momento di forza accentuandoli pinja, cioè se accentuo l'ipinja, il momento di forza e il torque tende a diminuire in basso, quindi ho questo effetto di appiattimento un po' dei resistance profile, non percepisco così tanto questo sticking point in basso. E quindi quando arrivo in basso, riesco a sentire meglio femorali e glutei, attivarli meglio, e ripartendo riesco ad attivarli meglio. In questo caso l'eccentrica è molto importante da mantenerla, per un discorso anche di riduzione di rischio e infortuni, perché di nuovo streccerò molto di più i femorali e i glutei, con questo ipinja accentuato, e l'esecuzione tendenzialmente migliore è quella delle stop reps, quindi scendo lentamente, tocco, ma mantenendo tensione, se vedete uno degli ultimi allenamenti che ho postato di gambe sul mio Instagram, potete vedere la differenza perché ho fatto entrambe le esecuzioni, scendo in basso, tengo un filo tensione e risalgo, cercando di strizzare bene i femorali e i glutei. Se sono un po' più carente di femorali, dovrò fare un preaffaticamento sui femorali, se sono un po' più carente di glutei e voglio concentrarmi sui glutei, potrò fare una preattivazione di glutei. E attenzione perché è uno degli esercizi per i glutei più efficaci, efficaci in assoluto, che riesce a coinvolgere meglio i glutei, proprio perché c'ha, con questo accentuare l'e-pinge, un accommodating resistance profile, un resistance profile tendenzialmente abbastanza piatto, e il gluteo lavora con un line of pull ottimale, quindi è un esercizio veramente fondamentale, se fatto bene, quindi non gli stacchi in generale, ma stacchi SLDL fatti con un buon e-pinge per coinvolgere e targetizzare bene i glutei, e anche più di un hip thrust, molto più efficace da un punto di vista ipertrofico, quindi per le signorine tenetevela. Altro discorso è, per enfatizzare ancora di più questo resistance profile che voglio appiattire, utilizzare degli elastici, facendoli passare sotto i piedi, utilizzando le apposte pedane che nelle palestre migliori si trovano, dove c'è la possibilità di attaccare gli elastici, oppure delle catene, in modo che man mano che salgo mi aumenta la tensione, quando scelgo la tensione diminuisce, quindi non avrò questa percezione di estrema fatica, di estrema tensione quando scendo, avrò un movimento molto più fluido, e di nuovo in basso, quando il femorale è allungato, quando ho bisogno di attivare bene per la ripartenza i glutei e i femorali, riuscirò ad avere meno carico, quindi riuscirò a ganciarmici meglio a livello di connessione mente-muscolo e enfatizzarli di più. Quindi la prima differenza, se le faccio nella sessione gambe per coinvolgere glutei e femorali, se le faccio nel back, è la modalità di esecuzione. Ora, nella sessione gambe, se voglio andare a dare una forte enfasi nei femorali, potrò inserirli come primo esercizio, come primo compound, magari per l'appunto dopo un preaffaticamento. Se invece voglio utilizzarli come esercizio di rifinitura, lo posso inserire come ultimo esercizio. Quindi alla fine, stessa cosa vale per il back, dipende quanto voglio puntare su questo esercizio. Ora, dal mio punto di vista, dipende qua dalle vostre carenze. Più siete carenti sul distretto, quindi per esempio carenti sui femorali, più volete inserirlo in entrambe le varianti, quindi inserite magari in una rotazione come primo compound, in un'altra rotazione come ultimo esercizio per strecciare per bene e dare quell'enfasi in più, in cui logicamente caricherete di meno perché sarete affaticati, sempre dopo una variante di Leccarle per coinvolgere bene i femorali. Stessa cosa per il back, più siete carenti sul back, più volete inserirlo sia come primo compound, sia come ultimo. Se invece non siete tanto carenti su questo estretto, evitatevi l'utilizzo come primo compound. Perché questo? Perché utilizzandolo alla fine, i carichi saranno inferiori, lo stress neurale sarà inferiore, e quindi avete un po' più di spazio, tra virgolette, in termini di recupero sistemico e neurale, di nuovo, per spingere su altri compound, magari su distretti che sono un po' più carenti. Quindi se il distretto è veramente carente, utilizzatelo come primo esercizio, se non è veramente carente, non utilizzatelo come primo esercizio. Quindi questi sono dei tip che potete portarvi a casa. Per il resto, se dovete, un'altra valutazione che dovete fare è quante volte inserirlo nel corso del vostro microciclo, e qua dipende molto da quanto vi regge la schiena, se siete atleti tendenzialmente molto pesanti, che tendono a soffrire lombalgia, non sono molto forti, inseritelo soltanto una volta, magari ogni 8 giorni, ogni 12 giorni, quindi non esagerate, aspettate di guadagnare forza, in modo che riusciate a sopportare una maggiore frequenza. Quindi state attenti anche a questo discorso, soprattutto se avete altri squat o compound che impegnano generalmente il core. Quindi fate attenzione anche a questo discorso, partite un po' più lenti, poi eventualmente ne inserite di più. Detto questo, l'unica domanda che dovete farvi veramente è che cosa avete dopo, quindi che cosa allenate nella sessione successiva, dopo aver fatto stacchi. Se allenate dei compound molto importanti, per esempio se siete carenti di gambe, avete una sessione di back, dopo una sessione di gambe, io non metterei delle varianti di stacchi prima di allenare le gambe, perché andate a impattare troppo sul recupero. Quindi utilizzateli veramente come tool, soltanto nel caso in cui un distretto sia particolarmente carente, e anche là partite inserendoli come ultimo esercizio e poi eventualmente inserite in una rotazione anche come primo esercizio, ma soltanto se quel distretto relativamente glutei femorali oppure back è veramente carente. L'ultimo interessante e interessantissimo utilizzo è nel caso in cui avete uno splittaggio back femorali, uno splittaggio pull generale. Ora, nella nostra academy su ranionation.it abbiamo parlato delle diverse split. Abbiamo visto che ad esempio nella Dorian Yates split una delle possibili varianti è inserire un richiamo di femorali o allenare bene i femorali nella sessione di back, se avete i femorali carenti. E questo è molto interessante perché usciamo con una sessione in cui per esempio in una rotazione possiamo fare un leccarlo, successivamente una variante di stacco, eventualmente un altro leccarlo, oppure no, e poi passare ad allenare il back. e in un'altra rotazione possiamo allenare il back, poi alla fine fare un leccarlo e infine una variante di stacco. È molto molto interessante e molto molto efficace nel caso in cui vogliamo aumentare la frequenza su questi distretti. Quindi questa è un po' una panoramica generale. Ragazzi, qualsiasi domanda qua sotto, come sempre, sono ben lieto di rispondere. E detto questo noi ci vediamo con il prossimo video.